La manifestazione della UISP si è tenuta all'interno del carcere Gozzini di Firenze. Hanno corso circa un centinaio di persone, tra runner e detenuti. Ce ne parla Walter Rizzo. Fermo, 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 fermo. Era vinta, mi me la sentivo oggi, dopo questo mese di Ramadan. Sofferto tanto, poteva allenarmi poco, però ce l'ho fatta, è una cosa che mi piace, correre, ce l'ho messa tutta. L'ha vinta a lui, Yassin, all'edizione 2023 del Vivi Città nelle carceri. L'iniziativa organizzata dalla UISP porta Vivi Città negli istituti penitenziari minorili, dove corrono insieme runners che arrivano da fuori e detenuti. Lo sport che diventa strumento per sentirsi liberi. Tanto lo sport, sì, dentro i carceri, sì. Soprattutto noi abbiamo due volte a settimana anche il campo sportivo, sono gli unici giorni in cui ci sentiamo liberi. L'iniziativa si sviluppa in tanti istituti penitenziari in tutta la penisola, si è cominciato a Caltanissetta, poi Firenze e sa seguire tante altre tappe, da Genova a Voghera a Ragusa. Insomma, una costa che coinvolge un numero alto di istituti penitenziari. Lo sport è un modo per risocializzare con le persone esterne al carcere, è un modo per trovare una modalità di vivere il carcere in modo più sereno. Ma lo sport non è solo uno strumento per prendersi cura di se stessi e impiegare il tempo in modo positivo. Vederli partecipare ad una gara, vederli rispettare le regole, rispettare l'avversario, è sicuramente indice di quella crescita che si auspica, venga in carcere per ogni utente, per ogni ristretto, nel percorso di rieducazione che siamo chiamati a fargli seguire.